Vediamo l'appuntamento quindi a venerdì 22 luglio dalle 18, 18 e 30 in Piazza Garibaldi e ricordiamo con il Presidente il programma quindi del laboratorio Piazza De Andrè. Sì, ci teniamo tanto, dunque la giornata sarà divisa diciamo in due sezioni, una sezione pomeridiana e una sezione serale. Nella sezione pomeridiana ovviamente abbiamo voluto sulla linea di quello che il laboratorio Piazza De Andrè ha sempre fatto, cioè quindi evidenziare e mettere in mostra valenze del nostro territorio, la prima parte sarà proprio dedicata ai musicisti del territorio, quindi avremo il duo di armonica e chitarra blues del grande armonicista Andrea Giannoni, avremo Claudio Farina che è un ottimo chitarrista acustico fingerstyle, avremo un gruppo importante che sta assolutamente presentandosi in maniera sempre più eclatante sul territorio, si chiamano Ansomia, sono molto giovani e producono un rock pop contemporaneo direi di grande valenza, insomma con influssi elettroacustici, quindi coprono un po' tutti e due i due rami musicali, quello elettrico e quello acustico e poi invece avremo nella parte, e poi avremo ecco sempre nel pomeriggio è importante una parte letteraria affidata a Nicola Tognoni che è un ottimo lettore di poesie, scrittore che ci farà ascoltare delle cose letterarie e accompagnato da un altro duo di musicisti e poi invece la parte serale che comincerà alle nove e mezza prevederà l'esibizione di una cantautrice americana che si chiama Jacqueline Perkins che vive in Italia ormai da molto tempo ma che è proprio nello stile del cantautore americano accompagnata da Anacleta Orlando e Claudio Farina, avremo poi il momento importante della consegna del premio, quindi i Tandarandan riceveranno il premio Piazza De Andrè 2011, avremo poi ospite con grande piacere Giorgio Cordini e Enrico Mantovani, Giorgio Cordini è uno degli alfieri che hanno reso veramente straordinaria l'ultima parte musicale di Fabrizio De Andrè, Giorgio Cordini è stato suo compagno di avventure, è stato sui palchi negli ultimi anni, nei grandi tour che Fabrizio ha fatto in giro per l'Italia e chiuderemo la serata con una special guest delle due musiciste australiane Hussie Hicks che poi si esibiranno invece a Montemarcello domenica 24 luglio nella rassegna tra fiume e mare che ci porteranno il loro messaggio di acustico folk indie australiano. Ci tengo a dire una cosa che vorrei fosse evidenziata, il laboratorio Piazza De Andrè pur chiaramente avendo il nome del grande Fabrizio eppure ovviamente considerando la sua anima legge senza dubbio nella piazza, non avremmo intitolato la piazza così, vuole però offrire degli artisti e della musica nello spirito di Fabrizio De Andrè, quindi non vuole riproporre brani e musiche di Fabrizio De Andrè, cosa che mi sembra negli ultimi tempi un po' troppo forse sfruttata e scontata, nel senso che forse varrebbe la pena più ascoltare, sedersi e ascoltare le grandi musiche che ha scritto Fabrizio, quanto invece prendere il suo esempio nella ricerca musicale e nella scrittura dei testi, quindi il nostro significato nel laboratorio Piazza De Andrè vuol dire presentare artisti che hanno una grande vena, che si ispirano alla filosofia di vita di Fabrizio De Andrè, che era una filosofia di vita molto importante, non troppo commerciale, attenta alle valenze e veramente alla profondità dei messaggi musicali ed artistici.